Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, buon mattino in questo nuovo video, io mi chiamo Io mi chiamo, io mi chiamo Giulia Nito, però ora vorrei cambiare il nome al mio canale, lo vorrei chiamare Il mio amico mi ha detto, chiamati almeno, ora io mi vorrei chiamare il re delle tenebre, però Allora, faremo survival normale e cominciamo ragazzi, e cominciamo, questa serie sarà per me una cosa divertente Perché andremo avanti e finiremo tutto minecraft, non so se farò in tempo a fare tutti i video ragazzi, mi dispiace Però, ci proverò Come voi siete i miei iscritti E vi dico, dite ai vostri amici di iscriversi al mio canale Ok, praticamente, andiamo dietro Pric, pic, pac 24 pezzi Ok, con 20 pezzi Cosa che facciamo? Pac La nostra casa Facciamo qua, allora, pac Just Asha Pa Pa piccone e tatatac barca eeeh spada eeeh questo ok ragazzi cominciamo il lavoro oddio quanto dici la ragazza vi dico vi consiglio di scaricare mobizen e vi volevo dire che in questo video io io saluto luciano luciano danila alessandro bruschi anza guardin diego matrullo leonardo de carli e le mie compagni cari alessia ricci alessia ricci anna meruzzi luna maltese le mie amiche e dopo vorrei dire un'altra cosa che senza i miei miei amici che ho detto ora tutta la mia classe non sarei più arrivato qua a fare i miei video cioè se starei con altri cioè senza di loro io praticamente sono una nullità perché senza di loro non mi posso divertire sto sempre in casa guardo la tv e basta grazie a loro ho scoperto la vita quindi li ringrazio molto vabbè le perneremo un po' più in là questa cosa quanti diciotto cubi ragazzi diciotto diciotto arrivo gigi d'alessio allora solo gigi d'alessio può accompagnare papapam e una cesta ovviamente quindi ho finito tutto finito tutto sì intanto posso ridare prima cosa allora 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 prima cosa che faccio prendo pack chest pack che sentivo pack e basta ok allora la porta sono sicuro che la metto qua ok qua ho già messo la graffina table però non va bene metto qua qua dopo qua io farei una cosa io scaverei prima cosa che faccio non scavo col piccone mascavo con lappa che non ce l'ho maledetta rompo rompo la barca perché non si rompe questa cocchia di barca andiamo notiamo su ragazzi non 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 togliamoci da qua togli sta cacchia di barca ragazzi oh ragazzi avete visto già il mio nuovo 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 cosa non è niente ragazzi il video star durando troppo troppo quindi ora faccio una cosa prendo un po di legna sono un po di legna mi crede blocchi micro la casetta e dopo ci vediamo nel prossimo video cosa ne dite capito ho capito che volete anche altri video da me ma e io sono un scolaro c'è vado a scuola e quindi devo anche studiare per domani giove però vi prometto che a natale a natale a capodanno a capodanno farò il video dove lancio i petardi io e farò vedere il mio arsenale da capodanno e dopo un giorno farò la cross ball challenge da solo perché i miei amici non possono venire a casa mia vabbè un giorno eviterò diego maturullo a casa mia diego il mio amico e faremo la cross ball challenge e faremo e dopo ci alleneremo e vedrete un video a un bel cavalletto un bel cavallo eh c'è niente di che però un po di carne di cavallo non andrebbe bene e chi è un cucciolo maledizione o fa un culo vabbè scusate ho detto una parolaccia scusate capito non sono noob ve lo dico e ora dopo sto video farò un altro video ovviamente io sono sempre appassionato di fare video grazie al mio amico lucio perugio questa porta sono un po brutto togliere questa porta tolta ok cest cest cestina mia allora blocco di terra ie 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 una trappola trappole questo legna i cubi li lascio lasciano queste altre cose ragazzi e mi dispiace però allora luciano spero che ti sia iscritto e lo so che ti sei se non ti sei iscritto domani a scuola vedi cosa succede di male vedrai mio caro amichetto 44 blocchi vabbè quasi un stang però mi piacerebbe avere uno stacca vabbè qualcuno mondo no sono io nabbo perché non sono stato nabbo vabbè qua ragazzi sono stato un po nabbo però qua non chiudo lascio sempre una porta aspetta che non si sa mai quando il pro mi vengono a distruggere la mia capannetta povera capannetta che non c'è neanche abbastanza materiali per costruirla eh sono 9 minuti e 30 di registrazione mi dispiace ragazzi forse dovrei chiudere no lasciamo qua 10 minuti tanto non succede niente vero luciano schiener allora ragazzi io superterò allora io sarò il sponsor una porca ragazzi sentito un buono fortissimo anche se non sta puovendo si sta sentito un suono fortissimo ho detto quasi quasi vado a vedere cosa è successo ma non posso perché sono minorenne e non posso uscire da la solda a casa porca di quella minorenne che schifo facciamo nei minorenne non abbiamo neanche la legge per uscire fuori in casa che schifo facciamo nei minorenne e maledizione vabbè metto così sopra i blocchi vabbè sopra la cesta non ce la metto sicuro il blocco faccio così così salto un blocco perché non posso fare ho tre blocchi no porca di no no ho fatto giusto ho fatto giusto non ho fatto giusto vaffanculo bip non posso non c'ho ragazzi non capitemi sono sono un po pirletti capito ah e vi sponso ci devo pure super den perché a me mi piace tantissimo super den a voi non lo so però a me mi piace super den ve lo dico io lo supporto allora ragazzi ormai è diventata sera mi un blocco un blocco un blocchetto qua e ragazzi supportate la serie e continuate a supportare perché sono io mi cavolo con voi e ciao a tutti ragazzi è finitoART è finito il video mettiti Grazie a tutti.